Sperimentando Col crescere degli anni ho trattato con gli uomini, sperimentando il prossimo che mi ha giudicato degno o indegno. Qualche volta ho creduto di non poter vivere senza sgomento, perché al pregiudizio su di me la gente aggiungeva quello sul paese dove sono nato. Perché? Perché il paese, il popolo, la famiglia e il tempo in cui sei nato è parte integrante del tuo destino.